Invece gli amici del pancetto lo chiamano Tamagotchi Tamagotchi? No, è vero per sempre è colpa sua Perché quando era piccola e non poteva portare a scuola il suo Tamagotchi Ero costretto a portarmela al lavoro Perché? Perché non moriva Ah, perché è questa cosa di questo pupaziente Ho sentito parlare che dovevi dargli da mangiare E tu pazientemente come padre ti sei portato il Tamagotchi E non ti hanno licenziato? No Per fortuna no Però Federica purtroppo non capisce molte volte Lei parte No perché si è No, si rompe Il Tamagotchi si è salvato? Sì, a secchio Se l'è mangiato Che se l'è mangiato Simo? No, era finito in acqua, si è affogato Si è affogato, insomma tutta la famiglia Già voi avete tre figli E il cane e tutto, ci mancava pure il Tamagotchi No, prima del cane e prima degli altri animali Prima dei quattro catti Quattro catti pure Senti allora, questa famiglia è composta da La suocera No No, vabbè In casa ci sta Papà Mamma Tre sorci Tre sorci che vuol dire? I tre ragazzini Ah no, pensavo i dopo I quattro catti Un cane e un pesce rosso Eccolo, ecco a tutti Un cane e un cane e un cane e un cane opposto